Un accorato appello al sindaco di Taranto Melucci giunge dai dipendenti dell'italiana trasporti, azienda impegnata nel trasporto di bitume alla quale sarebbero state sottratte a vantaggio di un gruppo del nord commesse di lavoro. A scrivere sono i dipendenti dell'italiana trasporti, gli autisti, un'azienda che riesce a mantenere più di 20 famiglie. Da qualche tempo scrivono le commesse di lavoro disponibili su Taranto sono diminuite e questo perché l'ENI, si legge nel comunicato, avrebbe affidato ad un gruppo settentrionale il lavoro. Perché si chiedono i dipendenti dell'italiana trasporti, l'ENI che pur da anni lavora con piccole e medie imprese del territorio in questo frangente, sceglie una grande impresa settentrionale e allora si rivolgano al sindaco Melucci affinché l'economia del territorio ionico non venga ulteriormente penalizzata e spinga sulla grande impresa affinché sia riconosciuto il lavoro delle imprese locali e infine chiedono al sindaco di intervenire a difesa dei lavoratori di Taranto che rischiano di perdere il proprio lavoro.